Ciao amici di Italiato Games, buongiorno! Giovedì 2 marzo e ci prepariamo subito a mostrarvi tutte le novità di oggi con tutte queste sorprese che vi ho preannunciato Neymar in regalo, monete d'oro in regalo, eventi speciali insomma, quello che noi vorremmo trovare tutte le settimane cioè eventi, qualcosa di differente dal solito meno male, questa settimana va bene così tanti regali di Konami e un regalo anche da Italiato Games e dal TG Tech questa sera, oggi pomeriggio, per meglio dire alle 16 c'è il regalo, una copia di Football Manager 2023 per PC su Steam tanti di voi lo conoscono già il TG Tech e sanno come funziona per chi fosse nuovo, comunque alle 15 su italiatofgames.it tutti i dettagli e alle 15 anche qui sul canale YouTube nella zona community ci sarà il link per scoprire tutto quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video, su queste iniziative, insomma su tutto quello che fa Italiato Games su YouTube e non solo perché facciamo tanto anche fuori YouTube vi ricordo che è davvero importante, oltre che iscrivervi, cosa fondamentale se ancora non l'avete fatta di mettere mi piace a questo video, così come agli altri video aiutano a far girare il video tramite l'algoritmo di YouTube anche ai non iscritti lo so, è un piccolissimo sacrificio, ma so che avete tante cose da fare non ha voglia, ma ringrazio davvero tutti coloro che lo fanno tutti i giorni in centinaia e centinaia, magari ecco fra qualche tempo ringrazierò migliaia di persone grazie davvero, grazie anche per gli abbonamenti, grazie per le donazioni grazie per gli acquisti su Amazon, passando per i link di affiliazione presenti all'inizio della descrizione del video, a voi non costa un centesimo in più rispetto ad andare direttamente in home o in app di Amazon ma in questa maniera ci supportate ed è un supporto davvero molto molto importante ma ora ragazzi è arrivato il momento di premere X e di vedere le novità di oggi che si preannunciano davvero interessanti tante cose le sappiamo già, altre no vedremo tutto in dettaglio fra pochissimi secondi il tempo di caricare il gioco ecco qui aggiornamenti live in corso un ringraziamento ad Alessandro del gruppo Telegram se qualcuno ancora non c'è entrato e ci vuole entrare basta che fa un commento e gli mando il link che mi ha segnalato che i server erano accesi alle 8 e mezzo eccolo qui Showtime dettagli la stagione 3 iniziata vediamolo un po' il video non dovrebbero esserci le musiche infatti Showtime ecco Messi 96 questo è il nostro regalo Neymar 96 poi 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 che abbiamo 600 milioni di download e celebrazioni l'abbiamo già detto, raccontato Showtime mamma mia che risoluzione bassa questo video sul mio 4k è veramente orrendo Game Changing Pass Momentum Dribbling Phenomenal Finishing insomma delle opzioni in più eccolo qui Holland ce lo fa vedere in super rovesciata quindi ci sarà più di un giocatore con questo Showtime cioè con delle caratteristiche aggiuntive vabbè qui vediamo Messi Game Changing Pass Showtime ed eccolo qui Neymar il regalo di oggi con le sue finte indubbiamente Maglia e l'Argentina arriverà quindi anche Messi Showtime non so dirvi se sarà il regalo o meno mi sembra un po' troppo mi sa che questo Neymar è per farci venire l'acquolina in bocca ma ancora non si sa nulla ifooto il 2023 sembra la grafica dell'eredità devo dirvi la verità eccoci qua usciamo allora questo è il bonus di eccesso normale questo è il bonus di eccesso ragazzi tutti i giorni 10 monete in regalo però dovete loggarvi tutti 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 i giorni altrimenti ve le perdete le 10 monete e io ve l'ho detto dopo non mi dite ma com'è che ho ricevuto meno monete di te perché tutti i giorni dovete loggarvi punto non vi aggetti nella posta eccolo qui Neymar Junior in regalo adesso andiamo a vedere un po' tutte le cose prima volevo dare un'occhiata se c'era qualche novità su partita amico non credo proprio però tanto per vedere soprattutto la serie B no no niente c'è solo il Pisa scelta incomprensibile davvero questa di Konami andiamo nel dettaglio andiamo nel negozio dei punti football sono curioso di vedere se c'è qualche novità giocatori eccolo qua nuova leggenda Cole e basta mi sa basta sì sì l'unica novità tra le nei punti football è Cole la punta del Manchester United comunque una leggenda in più io mi sono dovuto spendere 5.000 punti football perché mi scadevano mercoledì qui c'è Cole che non mi interessa assolutamente non mi interessa però se a qualcuno interessa c'è qui nel negozio dei punti football vediamo le missioni ah il pass partita ieri ho detto male cioè non me lo ricordavo il 16 marzo finisce quindi il 16 marzo fra due settimane ci saranno nuovi pass partita pure non finisce la stagione ci saranno prima ecco gli obiettivi che dovrebbero presentare anche monete d'oro eccolo qui segna con Neymar evento tour e vabbè questi 20.000 20.000 e 10.000 punti di allenamento questo è 20.000 gp 20.000 gp 10.000 gp segna con Neymar eventi sfida completa gli obiettivi e vedi ah bisogna completare gli altri per avere queste 60 monete quindi dovete giocare con Neymar sia negli eventi sfida che gli eventi tour per avere questi queste 60 monete quindi ci interessano molto le prime due devo dirvi la verità questi sono gli obiettivi della round 1 che però qui non presentano monete ve lo ribadisco non è il round 2 quello che vedete adesso ma è una seconda chance del round 1 per passare alla round 2 spero di essere stato chiaro poi andiamo a prendere tutti i regali c'è pure questa notizia purtroppo brutta è scomparso questo giocatore Ian Caio nell'Ituano FC giocatore che non conosco mi dispiace comunque della sua scomparsa in questo giocatore da oggi non è più disponibile nella lista dei giocatori standard ecco qui tutti i premi tacchete eccolo qui si inisce la tua squadra andiamo subito a vedere la mia squadra eccolo qui mi pare che fosse 86 dove 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 eccolo qui 21 livelli di crescita dai livelliamolo subito è già tutte le competenze stile di gioco a 90 è molto molto interessante aumentiamo di livello 1 2 3 18 19 andiamo con i 1000 visto che c'è no tanti facciamo con i 100 pure che c'è no tanti e un altro eccolo qua quindi non dobbiamo dargli nessun punto di per il stile di gioco perché sta già a 90 e va benissimo vediamo cosa mi propone l'assegnazione automatica per arrivare a 96 tiro 6 passaggio 4 dribbling 8 destrezza 8 forza arti inferiori 4 forza in aria tanto non è la sua a me questa finalizzazione 87 passaggio 4 dribbling 8 destrezza 8 forza arti inferiori non è proprio velocissimo ma accelerazione va benissimo scusa i punti dopo qualcuno mi criticherà ma come dovevi mettere questo vabbè ragazzi è un mondo difficile 96 andiamolo un po' a vedere dovrebbe arrivare a 99 andiamo a togliere quello che c'è adesso uh l'avevo già tolto va bene allora andiamo a mettere a posto di gridsman tre quartisti da 99 no mediano punta non credo che arrivi a 99 infatti 91 esa 99 è da 91 e ragazzi lo potete usare sia come esa che come trequartista o come seconda punta ovviamente anche vediamolo come seconda punta eccolo 99 io me lo tengo ci penserò se trequartista o esa comunque è signori nemar junior questa versione qui è sicuramente migliore due punticini in più dell'altra poi dopo questo è il regista creativo quindi potrebbe andare molto bene qui facciamo così no no così così e così potrebbe essere un'idea che in edit non mi sembra male oppure così va bene questi quattro lì davanti non mi dispiacciono affatto questo nemar junior ci piace ci piace ci piace ci piace allora andiamo a vedere gli eventi che oggi sono più interessanti del solito allora la Liga BBVMX è quella che abbiamo visto nei giorni scorsi l'evento tour anche questo tra 41 giorni Worldwide Clubs vediamo un po' questo qui l'accordo al buio quindi c'è il solito premio e questo è con il Worldwide Clubs quindi quasi tutti i giocatori non c'è la questione di dover fare la squadra vanno bene quasi tutte le squadre l'avete visto qui è in primissimo piano l'Atalanta ma tutte le squadre dei campionati principali e questo sarà l'evento che andiamo a fare al solito questo è un evento Turk National Teams poi aggiungendo giocatori con le seguenti nazionalità immagino con le maglie delle squadre nazionali e qui però questo evento a me non mi interessa perché è GP e punti ESP se a voi interessa potete farlo poi ovviamente come variazione sul tema può essere carina Worldwide Clubs questo è con il Golden Goal l'evento Golden Goal evento sfida premio sfida 1 10.000 10.000 e anche questo a me mi interessa poco perché è GP e punti ESP però a me questa storia del Golden Goal ogni tanto peccato che dopo c'è qualcuno che lo utilizza in modo negativo ma comunque c'è Worldwide Clubs evento sfida utente questo sono le 50 monete di football solite questo anche questo Worldwide Clubs quindi squadre delle squadre tedesche scusate presenti nel gioco spagnole italiane e inglesi sostanzialmente non francesi però dai vabbè ce ne sommano un bel po' non dovreste avere troppa difficoltà leggenda questo è un altro evento sfida vittorie minime 10.000 10.000 e qui abbiamo però un livello sfida che dovrebbe essere più elevato infatti completa tutte le sfide e le abilità avversario più ostici questo soprattutto se vi va di sfidare l'intelligenza artificiale sono due sfide interessanti i premi un po' meno come dire un bel po' di variazione del tema un po' di monete in regalo e che devo dirvi meglio del solito qui non è che ci sono le monete qui mi ricordavo di un evento in più con le monete no niente però ci sono gli obiettivi con le monete e poi il worldwide clubs con 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 un giro in regalo io ancora non so quali siano i giocatori icone di oggi lista giocatori speciali uh osy man kane holland allora qui niente niente di nuovo sotto il sole andiamo un po' a vedere lista giocatori speciali allora fenomenal finishing eccoli qua questi sono le novità i giocatori della settimana non ci sono oggi non c'è un pacchetto squadre iconiche non c'è ci sono questi queste star ah c'è però pure questo qui italian deluxe marzo 2023 english deluxe marzo 2023 allora attenzione andiamo in ordine tantissima roba oggi squadre giocatori spagnoli e qui abbiamo la possibilità di girare pesca limitata a 11 giocatori ma non c'è un limite li potete pescare tutti questo rimanenti 3 questi li potete pescare tutti allora cominciamo dalla Spagna qui ci abbiamo un questi sono da livellare da livellare De Jong 85 Torres 84 Modric 84 Fekir 83 Jimenez Cavani e Carvalho 82 Bryce Mendez 80 Enesri 80 e Javi Galan 79 Modric a 29 livelli di crescita e e e volevo vedere anche un'altra cosa ci dice che arriva a 96 quindi diciamo che tipo quello dei giocatori della settimana era uguale però a qualcuno potrebbe interessare questi li potete prendere tutti i 11 idem per i giocatori italiani qui abbiamo Hernández Danfries Zielinski Zapata Di Maria Milenkovic Zaccagni Vicario Frattesi Zaleschi e Schurz vediamo un po' questo Hernández ha 30 livelli di crescita vediamo un po' i livelli massimi che ci dice ci dice che Hernández può arrivare a 96 Zapata a 94 frattesi a 94 che dirvi questo Hernández sicuramente interessante che arriva a 96 terzino mattatore un pochino tenta devo dirvi la verità questo Hernández così un pochino tenta Danfries 82 terzino offensivo un po' meno però diciamo Di Maria quanti livelli già 25 pure non male non avessi tantissimi davanti Zaleschi 28 28 livelli di crescita chissà quanto può arrivare più oltre questi questi sono tutti i livelli diciamo sono delle versioni potenziate indubbiamente potenziate rispetto alla versione base quindi Spagna Italia Inghilterra vediamo un po' l'Inghilterra chi ha c'è De Bruyne 87 con 19 livelli di crescita Saliba Kulusevsky Martínez Sancho Paligna Saint-Maximin Toney Badiscile Castagne ex Atalanta e Estupignan De Bruyne interessante vediamo un po' qui questi giocatori De Bruyne arriva a 96 Kulusevsky a 95 Badiscile a 91 quindi sono tutte versioni potenziate indubbiamente dei giocatori forse non come quelli della settimana ma comunque sono più forti sostanzialmente allora qui abbiamo poi questo è il pool che ha preso il posto di quello leggendario 150 giocatori Olanda arriva a 98 Kane a 97 Victor Rosimena a 96 andiamo un po' a vedere ecco qua questi sono tre giocatori che tutti chi più chi meno vorrebbe avere perché abbiamo visto i livelli solo che il solito pool a 150 giocatori io non lo tocco peccato perché sicuramente sia Olanda che Osimena un po' meno Kane sarebbero stati due giocatori che in un pool da 50 avrei cercato vi dico la verità 150 lo trovo sconveniente e non interessante però è indubbio che questi giocatori abbiano indubbiamente dei parametri molto interessanti 24 livelli di crescita contatto fisico già 88 finalizzazione 87 potenza di tiro 86 velocità 84 Osimena 84 di velocità contatto fisico 81 salto 80 e 29 livelli di crescita Kane 25 livelli di crescita comportamento offensivo 84 finalizzazione 87 potenza di tiro 82 cara Konami fallo questo step evolutivo passa 50 giocatori almeno per questi pool senza leggende io te lo consiglio io girerei tanta altra gente girerebbe secondo me li triplichi i giri però questa è una mia opinione poi può essere che mi sbaglio e ovviamente poi dipende a loro ecco qui infine i giocatori della settimana abbiamo con caratteristica speciale Foden long range Carler sarà un passaggio probabilmente adesso Carler non mi ricordo cosa significhi abbiamo il signor Messi a 96 ma tanto oramai Messi l'abbiamo in tutti i modi possibili immaginabili regista creativo seconda punta abbiamo Foden 95 giocatore chiave controllo corpo 93 dribbling 93 Foden è un giocatore molto interessante Casemiro 95 e niente male contatto fisico 91 potenzitire 85 salto 84 mi piacciono molto questi parametri di Casemiro lo potrei prendere in assoluta considerazione le Aula hanno messo trequartista io l'ho visto più come seconda punta anche nel Milan di 352 mi sbaglio se mi sbaglio ditemelo dribbling 93 velocità 90 accelerazione 90 molto molto interessante indubbiamente anche Leao Romero 94 ragazzi anche lui non è velocissimo ma contrasto 90 aggressività 90 salto 87 contatto fisico 88 mi piacerebbe tanto 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 mi piacerebbe tanto 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 Junior Firpo che è andato via dal Barcellona velocità 90 terzino mattatore accelerazione 88 potenza di tiro 80 controllo pallo 81 dribbling 85 resistenza 83 molto interessante candreva seconda punta 92 92 candreva 85 resistenza controllo corpo 82 potenzi tiro 89 ito ito è ito nel senso che non è che mi interessa tanto scusate ho fatto un gioco di parole con il mio diretto accelerazione 92 velocità 88 però 91 inizia a essere meno interessante così come Tiago Volpi il portiere che arriva a 91 questi giocatori lo sapete non si possono livellare Gabri Veiga 90 e Moffi 90 io devo dire che però Candreva Junior Firpo Leao Casemiro insomma qualche giocatore che mi interessa c'è soprattutto questo Romero soprattutto questo Romero mi piace molto può essere che domenica oltre al giro gratis se non pesco Romero potrei potrei rigirare ancora i giocatori della settimana perché questo Romero mi interessa molto mi interessa molto anche questo Junior Firpo mi interessa Leao mi interessa Casemiro insomma qualcosa da girare questa settimana c'è anche se poi più o meno i livelli dei giocatori che già ho sono simili e ci mancherebbe però però qualche cosa quel Romero 94 vediamo un po' Magaiaes e Magaiaes non ci arriva avere quei 90 su contrasto eccetera eccetera è più veloce però non lo so mi interessa mi interessa mi interessa si Casemiro sta lì anche Junior Firpo vediamo vediamo va bene ragazzi per il momento è tutto oggi davvero un brava a Konami questo per me ecco vi dico la verità per me questo dovrebbe essere tutte le settimane così e allora saremmo davvero contenti e non avremmo ma non tanto solo per i regali ma anche un po' le monete d'oro ma anche un po' gli eventi variazioni sul tema secondo me questo dovrebbe essere la normalità di una settimana magari anche meglio diluiti fra lunedì e giovedì però così va bene secondo me a livello di Dream Team dopo lo so non c'è la Copp non c'è la Master League non ci sono le divisioni online eccetera eccetera a livello di contenuti di Dream Team che comunque per me dovrebbe essere rivoluzionato per tante ragioni ma diciamo nell'aggiornamento settimanale questo è la quantità e la qualità di contenuti che a me va bene onestamente questo lo penso che sia un buon una buona mole di contenuto e anche qualitativamente con monete giocatori pacchetti un po' diversi insomma poi io non giro niente perché non mi interessa però queste League Selection insomma qualche variazione sul tema e poi indubbiamente perché negarlo quei tre quei tre attaccanti sono molto interessanti molto 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 a me me ne interesserebbero soprattutto due Ozyman e Holland soprattutto dalla panchina però ragazzi 150 giocatori non li giro proprio va bene ragazzi vi ho tenuto compagnia 22 minuti e ho cercato di stringere al massimo mi fermo qui fatemi sapere cosa ne pensate di questo super aggiornamento e vi do appuntamento al prossimo video che sarà il TG Tech dopo che sarà andato in onda quindi voi non mancate partecipate sapete che voglio sempre che il regalo lo riceva un follower di Italia Talk Games quasi sempre succede così non sempre cerchiamo ancora di essere più performanti del solito per qualsiasi cosa sono a vostra disposizione lasciate i commenti di qualsiasi genere io vi auguro una buona giornata e a presto ciao ciao